Il calciomercato del Pescara, urgenti le uscite a tal proposito, si è espresso così sul nostro sito www.retiotto.it, il Presidente del Pescara Daniele Sebastiani, Rizzo e Galano non rientrano più nei nostri piani, ma questo era già noto da tempo, per entrambi, questa dichiarazione più importante rilasciata al Presidente Sebastiani, per entrambi nessun incentivo all'esodo, il sacrificio lo abbiamo fatto solo per Mirko Valdifiori, diverso invece il discorso su Marilungo, dobbiamo procedere con queste tre uscite, Rizzo, Galano e Marilungo. Bocic, ha aggiunto Sebastiani, non è una priorità, se c'è la possibilità di migliorare l'attacco non ci tireremo indietro, altrimenti resteremo così. Con la partezza di Rizzo arriverà un altro centrocampista? Non necessariamente vedremo. Così dunque la Presidente Daniele Sebastiani, la giornata di oggi tutto fermo, su Rizzo smentito, l'interessamento da parte da Avellino che rosa a ben sei centrocampisti. Bocic è stato accostato al Latina di Daniele Di Donato che però si affida al 3-5-2, il serbo sarebbe così di difficile collocazione tattica. In entrata si era parlato negli ultimi giorni di Jacopo Murano del Perugia, c'è stata anche la smentita da parte del DS Umbro Marco Gianniti che non ha mai ricevuto una telefonata da parte del club. Dunque Murano verso Avellino, c'è qualche differenza da colmare tra domanda e offerta proprio per quanto riguarda il prezzo del cartellino. Su Simeri del Bari, altro attaccante, non ci sono riscontri, al momento nessuna richiesta da parte del Delfino come ci ha confermato il DS del Bari, l'ex portiere tra l'altro del Pescara stagione 2006-2007, ovvero Ciro Polito. Intanto però i gioiellini del Bivaio Biancazzurro sono attenzionati dai grandi club, club di Serie A, per esempio l'ultimo in ordine di tempo Davide Veroli lo sta seguendo, sta seguendo la sua crescita. La Juventus compirà 19 anni il prossimo 29 gennaio da 5 a Pescara, una vera e propria trasformazione proprio nel ruolo, trequartista, prima trequartista, poi esterno alto, regista terzino. E da ultimo centrale di difesa, titolarissimo nelle ultime 5 partite, ben 10 presenze, l'esordio, il debutto lo scorso 23 ottobre al primo minuto nella trasferta dell'Artemio Franchi di Siena.